La Fondazione Bruno Kessler sta lavorando sulle previsioni della diffusione del virus. Negli ultimi anni FDK ha investito molto nella direzione dello smart working, non tanto in termini economici ma soprattutto in termini di cultura dello smart work. E questo è dovuto al fatto che la ricerca in realtà non ha confini e quindi il pensare che si possa fare solo all'interno dei nostri edifici probabilmente è un po' limitante. E questo ce ne siamo accorti, non ne avevamo la consapevolezza completa proprio in questo momento storico così difficile, dove la nostra capacità di essere agili, la nostra flessibilità ci ha consentito di continuare a lavorare negli stessi termini in cui lavoravamo prima anche da casa. Mi sembra un buon esempio, io spero che possa essere replicato in molte altre realtà del nostro video, bye! . . . . . . . . . Grazie a tutti